Ciao a tutti, mi chiamo Loklan, sono australiano, ho 22 anni e qui sono per una ragione solamente Chiedere a tutti voi se potete aiutare, migliorare e imparare l'italiano Ho deciso di fare questo canale solamente per questa ragione, imparare l'italiano Quindi così, spero che se sei italiano e stai vedendo questo video, spero che mi puoi correggere nei commenti Per esempio, continuerò di fare i video in italiano per praticare E quindi, forse pensate che quella è un'idea un po' strano Però avete bisogno di capire che qui in Australia non ci sono tanti italiani che vogliono parlare italiano Anche non ci sono tanti italiani, ci sono italiani però non tanti Anche è molto difficile per me parlare alla mezzanotte con un italiano che abita in Italia Perché devo parlare alla mezzanotte e quello non è sostenibile per me Però bene, spero che mi potete aiutare e che vai a vedere i miei video Perché ho proprio bisogno, ho propria voglia di parlare l'italiano bene Ho imparato l'italiano per un anno, però di manuale Penso che questo modo è un po' annoioso Non c'è l'opportunità di parlarla la lingua quando stai imparandola di manuale Quindi, se volete sapere qualcosa di me Come ho detto ancora, ho 22 anni Sono mezzo giapponese Abito alla terza grande città di Australia Che si chiama Brisbane Parlo giapponese Anche spagnolo e ovviamente inglese Però ho deciso di imparare l'italiano anche Perché mi interessa la cultura italiana La storia è anche Però particolarmente dei film italiani Mi interessa tantissimo Penso che i registi italiani sono i più bravi del mondo Mi piace Paolo Solentino Bernardo Bertolucci Lucino Visconti Pierpaolo Pasolini anche Sono innamorata dei film Sono innamorato dei film italiani Quindi bene Non ho propria ragione per imparare la lingua Però spero che se sei italiano mi capisci la mia logica Per, non so, volere di parlare questa bella lingua Però bene Spero che mi potete correggere E aiutare Qui vi aspetto Grazie per vedere questo video E alla prossima Ciao